Buonasera, nuova puntata di Password. Questa sera parliamo di una struttura molto, molto importante per la città di Cassino. Stiamo parlando del Museo di Arte Contemporanea, CAMUSAC, una nuova struttura dedicata all'arte contemporanea. È stata inaugurata un anno, circa un anno fa, anche più di un anno fa, il 12 ottobre scorso, con la riqualificazione degli edifici industriali della Longo SPA che è presente nella città ai piedi del Colle dove sorge la millenaria Abbazia di Monte Cassino. Quindi stasera parleremo di questo museo importantissimo per la città, ma tra poco vi spiegherò di che cosa si tratta perché stiamo parlando di un museo di un'importanza nazionale se non internazionale. Vi spiego poi il perché. Avremo prestigiosi ospiti, però prima di cominciare prego alla regia di mandare la sigla. Prego. Grazie. Grazie. Bene, allora, la fondazione CAMUSAC, creata dall'impegno e dalla passione di Sergio e Maria Longo per la raccolta e l'esposizione dello studio delle arti visive contemporanee, raccoglie una collezione permanente che appartiene alla fondazione stessa, diciamo, Monia, nata dalla raccolta di numerose opere d'arte condotta da oltre, pensate, da oltre 25 anni per la crescita e lo sviluppo culturale del nostro territorio, diciamo, del Basso Lazio. Allora, questa sera noi abbiamo come ospiti due grossi personaggi, con noi Bruno Corà, critico d'arte e direttore del CAMUSAC, e la Brunella Longo, figlia di Sergio, che è membro della fondazione CAMUSAC. Allora, io dico questo, vorrei fare una breve schede. Bruto Corà ha un curriculum enorme, non sapevo da dove cominciare, sinceramente, però possiamo dire due cose, le diciamo. Nell'esiqua schiera all'ossegnato dei critici italiani che hanno privilegiato il ruolo di curatori di mostri ed eventi, emerge senz'altro per eccellenza e per fervore pioneristico alla figura del nostro personaggio Bruno Corà, che abbiamo qui questa sera e che ringrazio per essere intervenuto alla tradizione. Grazie a voi. Dalla militanza critica e dalla cura di mostri di grande interesse e di rilevanza artistica di molti centri italiani in tutto, è corridato da un'intensa anche attività di scrittura, no? In realtà, monografie, monografie di artisti e testi per innumerevoli mostre, che lo ha portato poi nel tempo alla Cattedra di Storia dell'Arte e del Contemporaneo presso l'Università di Cassino e dell'Assi Meridionale dal 99 al 2006, anche a Firenze lo abbiamo dal 2005 al 2007 e all'Accadema di Belle Arti di Perugia dal 79, se non sbaglio, al 99. Esattamente. Perfetto, benissimo. Allora, cominciamo, parliamo di questa intensa attività di ricerca e un breve scursus del suo lavoro che ha inizio quando? Ma, diciamo personalmente, io parto nel 1970, esattamente come data iniziale della mia attività di scrittura critica e invece per quel che riguarda la collaborazione appunto con Sergio Longo, Maria Longo, la famiglia in generale, perché sono stati tutti partecipi, Brunella stessa, Andrea, eccetera, il nostro rapporto comincia all'inizio degli anni 90 con appunto la collezione di arte contemporanea che oggi è diventata la base, diciamo così, del Camusac, cioè di tutto quello che oggi il museo raccoglie. Questo rapporto è stato peraltro, diciamo, condiviso anche con, in quel momento appunto si parla degli anni 90, fine degli anni 90, con l'Università degli Studi di Cassino, in particolare con la Facoltà di Lettere e Filosofia e in quel momento, diciamo, con il Rettore Magnifico che era Oronzo Pecere. La collaborazione consisteva nel fatto che avendo io un insegnamento in quel momento portavo i giovani a conoscenza di questa disciplina che era nuova anche nella Facoltà e quindi anche direttamente a contatto con le opere d'arte che potevano loro stessi conoscere nella collezione di Sergio e Maria Longo. Questo è un po', diciamo così, la preistoria della nascita di questa importante istituzione. Diciamo, l'attività di critica d'arte è un'attività, è una vocazione, cioè come la vocazione artistica, cioè ognuno... Ecco, quali sono stati i primi approcci con l'arte? Vediamo un po'. Ecco, diciamo, i primi approcci con l'arte sono stati a Milano. Io mi sono trasferito da giovane a 20 anni a Milano e lì ho incontrato, diciamo, un po' il gota anche dell'editoria italiana. In quel momento era Giulio Inaudi, Gian Giacomo Fertrinelli, ma anche, diciamo, tutto l'entourage culturale che ruotava intorno a questi grandi editori, come per esempio Umberto Eco, che era giovanissimo, mentre non era più giovane Eugenio Montale, che ho conosciuto, o architetti importanti come Rogers e così via. Questo noviziato era fatto anche però con una assidua, come dire, frequentazione con gli artisti di quella città. A Milano c'era, in quell'epoca c'era ancora Lucio Fontana, che è un nome oggi, c'era Enrico Castellani, importantissima figura che sta facendo appunto adesso una grande escalation, diciamo, sul piano internazionale, ma così anche molti altri artisti che sarebbe anche lungo elencare. Ecco, questo è stato l'inizio. Poi sono tornato a Roma, Roma è una città invece dove le arti visive si mescolano con il cinema e quindi, oltre ad avere così incrociato artisti all'epoca come Cagli, come Mirko, come Capogrossi ed altri, ho però anche frequentato personaggi come Federico Fellini, come Lucchino Visconti, come Pierpaolo Pasolini e così via. Gli incontri sono stati tantissimi. Moltissimi. In quel momento, erano a formazione. Che hanno infuito, insomma, sulla formazione. Esatto, sulla formazione, sull'immagine anche in particolare. Il desiderio, il critico, il desiderio di conoscere un artista la incuriosisce. Se sì, in che maniera? Ma intanto è sempre dovuto, diciamo, ad un, come si può dire, un'epifania, un vero incontro rivelatore attraverso un'opera, qualcosa che ti colpisce. Poi vuoi sapere chi è l'autore di quest'opera e poi, ovviamente, l'incontro con il personaggio fa sì che sei portato ad approfondire là dove appunto senti che c'è, diciamo, qualcosa di concreto, di importante. Quindi è un'iniziazione lenta, ma anche progressiva ed è frutto, diciamo, di studio, di rapporto, di, diciamo, di frequentazione e poi anche di esercizio di ermeneutico, no? Diciamo, di interpretazione critica dell'opera. Che cos'è il bello, secondo lei, che cos'è il bello in un'opera d'arte? Ma il bello, come sappiamo, è volubile, nel senso che i metri di giudizio vanno da quello che è stato, diciamo, il metro stabilito da Hegel sulla bellezza oppure da Winkelmann prima di lui e poi invece oggi siamo arrivati ad una soggettività che fa sì che questo bello sia anche multiforme, sia, diciamo, proteiforme, ecco, più che altro. Non esiste una, come dire, definizione di quello che è bello, perché, come ripeto, anche attraverso le culture, una cultura può trasformare qualcosa che è brutto in bello e viceversa, insomma. Allora, passiamo adesso a Brunella. Brunella che è membro, diciamo, della fondazione, che ha un ruolo, insomma, ha un ruolo molto importante all'interno di questo museo. Abbiamo detto che sono circa 10.000 metri quadrati, non vorrei sbagliare, come... Come estensione, sì, sono 2.000 metri quadrati interni e 2.000 esterni, sì. Brunella è anche una bravissima fotografa, tra l'altro, ha ammirato delle fotografie molto, 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 molto belle, però vorrei sapere, proprio da Brunella, qual è il ruolo che svolge all'interno del Camusac, cioè esattamente come si muove all'interno del Camusac? Primaveramente io mi identifico un po', mi identifico come un artista che lavora con la fotografia, di conseguenza sono tanti anni. E questo è già un merito, no? Eh sì, perché nasce poi tutta questa storia quando nasce la collezione e quindi in questo senso ho avuto la fortuna, in effetti ci sono state queste strane coincidenze, c'è stata questa fortuna di entrare in contatto con un determinato ambiente, di conoscere da vicino degli artisti molto importanti, di calibro... Diciamo che questo museo è una collezione incredibilmente fantastica. Sì, 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 sì. Poi è successo questo, che naturalmente alimentando questa passione e poi con lo sviluppo, con la nascita di questo museo è chiaro che ho cominciato anche ad occuparmene in prima persona, insieme naturalmente a tutti gli altri membri della mia famiglia ed in particolare per quanto riguarda tutte le attività collaterali che si svolgono all'interno del museo, che possono essere i workshop, i laboratori, le visite guidate, tutto quello che insomma riguarda un po' la didattica, il servizio educativo... Ecco, parliamo un attimo di un workshop, voi ne fate diversi, se non sbaglio, ultimamente ho saputo che c'è qualcosa sulla fotografia? Sì, allora, in primo luogo adesso siamo partiti, chiaramente il museo è attivo da pochissimi mesi, per cui il primo workshop, quindi questo è il primo workshop che stiamo, come dire, divulgando e quindi tra pochi giorni si attiverà anche questo workshop ed è fotografico, è un workshop sulla street photography, molto specifico e street photography si intende una fotografia che non è proprio un vero e proprio fotoreportaggio, ma è una fotografia che può sembrare un po' rubata, strappata, ma che riflette il sociale all'interno magari di contesti urbani, sono queste un po' le fotografie e quindi c'è tutta una storia, c'è tutta una tradizione che parte da Cartier-Bresson fino ad arrivare ad oggi. Vi riluggete a un pubblico? A che tipo di pubblico? Allora, questo si rivolge naturalmente ad un pubblico che già ha... Non selezionato, insomma, è aperto come... È apertissimo, è apertissimo solamente che è richiesta una conoscenza di base del mezzo fotografico perché se no non si potrebbero affrontare certi argomenti o comunque non potrebbero essere fatte magari un certo tipo di ricerche, di progetti, di esercitazioni. Però, diciamo, è aperto a tutti quanti. Ecco, in che consiste questo workshop che fra poco andrete a fare? In chi consiste? Allora, consiste, diciamo, tecnicamente si tratta di quattro incontri che hanno la durata di circa sei ore l'uno, dove si insegna un po' di teoria e quindi di storia della street photography e dove però ogni partecipante è invitato ad realizzare dei mini progetti che durante, diciamo, il lasso di tempo che intercorre tra un incontro e l'altro. Poi queste fotografie che vengono realizzate vengono confrontate e... Mi dicevi che alla fine praticamente il miei web partecipa a questo workshop, sarà nella mostra stessa, no? Sì, e poi l'ultimo... Sarà una mostra dei partecipanti, giusto? Sì, 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 assolutamente. Cioè, verranno comunque confrontate tra i vari membri del workshop. Io penso che questa cosa che esiste... E poi ci sarà una mostra finale che avrà la durata di circa un mese. Quindi è una cosa positiva, no? Mi ricordo un po', vediamo un po' che tu si è, Corà, è d'accordo con me, un po' come il Nemo Profeta in Patria, no? Nel senso che esistono delle realtà importantissime e che non si riesce a capire che cosa si ha. Certo. E questo mi fa sorridere, perché ho dovuto sempre, purtroppo, ahimè, alla cultura. E quando non c'è cultura, non c'è niente. Però adesso ci fermiamo un attimo, perché c'è un bellissimo filmato che mi avete portato e che io vorrei mandare. Quindi prego alla regia di mandare questo piccolo documentario sul museo. Poi ne parleremo. Prego. 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 Grazie a tutti. Cassino Museo di Arte Contemporanea è una realtà che nasce a seguito di un'azione di collezionismo effettuata dalla famiglia Longo durante gli anni 90 e 2000. E qui, nella sala dei due grandi ambienti, un tempo adibiti a attività industriale, la famiglia Longo e quindi la fondazione Camusac, oggi, rimettendo tutto a norma anche con gli standard museali richiesti, ha riunito molte opere importanti, diciamo, di grandi protagonisti dell'arte contemporanea. Una realtà, dunque, che si è venuta formando col tempo e che raccoglie le più importanti personalità e tendenze dell'arte contemporanea dopo gli anni 60. È un'autentica, diciamo, novità perché sul territorio del Lazio meridionale non esiste una struttura analoga sia per quantità di opere sia per importanza di veri e propri capolavori. Qui sono custoditi e, diciamo, tutelati lavori di artisti che come Enrico Castellani, Giannis Cunellis, Mario Mers, Antoni Gormelei, Sol Le Witt, Giulio Paolini, Boetti, Penone, tantissimi altri hanno marcato la scena dell'arte, diciamo, degli ultimi 50 anni. Questo escursus poi si è completato durante gli anni con la presenza anche della generazione degli anni 70-80. Abbiamo opere importanti di Nunzio, di Pizzi e di altri artisti ancora, addirittura Jetelova, Bassiri e questo, diciamo, dà il senso della misura e dell'importanza di questa collezione. Inoltre, l'attività del museo si coniuga a quella di alcuni dipartimenti dell'università che collaborano sin dagli anni 90 con la creazione di questa collezione. Infatti, nel campus universitario esistono altrettante opere, alcune opere importanti di scultura, di Sol Le Witt, di Renato Ranaldi, di Mattiacci e di molti altri artisti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E le opere di un giovane giapponese, Shigeru Saito, il quale ha voluto fare un omaggio a questo grande maestro che, ricordiamo, è stato insegnato del premio dell'imperatore nel 2010, quindi una delle massime onorificenze dedicate all'arte, alla pittura italiana e alla pittura internazionale. Enrico Castellani è un indiscusso protagonista dell'arte contemporanea italiana e europea a partire dagli anni 60 in poi. Dunque, un'artista che ha rinunciato a tutti quelli che erano gli orpelli, i significati di una pittura piena di contenuti assolutamente immaginari, ma non, direi, legati a quello che si vede, a quello che è visivamente reale. E questo gli derivava, diciamo, da una partecipazione a quelle che erano stati i risultati più importanti, una rielaborazione addirittura delle conquiste delle avanguardie storiche, per non parlare poi della grande elezione di Mondrian, in particolare poi di Jackson Pollock. Castellani dunque poi ha riuscito a trovare una sua cifra individuale con le estroflessioni e le introflessioni della superficie che lo hanno portato, come dire, di fronte al pubblico internazionale con una cifra linguistica assolutamente di grande riconoscibilità e di grande qualità, perché le sue coniugazioni, diciamo così, spaziali e della sensibilizzazione della superficie lo hanno distinto per queste ragioni rispetto poi a tutta la sua generazione, che conta e a nove artisti come quelli che ho già nominato, ma anche come altri, come Dadamaino, Bonalumi e così via. Oggi è indiscussa la fama e l'importanza di questo artista anche per la sua straordinaria capacità liberatoria rispetto ai segni e agli elementi che aveva già definito. Qui in particolare abbiamo un'opera che lui comunemente definisce lo stendardo di Pisa perché fu realizzato in occasione di un'iniziativa molto particolare dedicata a Sofri in quel momento e che attraverso un bugnato, vedete, in qualche modo articola quello che era stato l'elemento della estroflessione e introflessione delle superfici lavorate appunto con la tela e con la pittura. In questa mostra importante che si è tenuta qui per l'apertura del Museo di Cassino ci sono altre opere come lo spartito e come questi importanti nuovi risultati della sua ricerca a partire dal 2009-2010 che si chiamano proprio doppi angolari. Il resto è la storia e si tratta delle superfici estroflesse e introflesse monocrome. Grazie a tutti. Allora ho conosciuto Castellani prima la sua opera, io ero studente, frequentavo l'università e ho conosciuto un professore giapponese che questo qui ha vissuto più di dieci anni a Roma e era amico di Castellani e quando io sono andato a aiutare a montare i suoi lavori a casa sua, a questo professore, io ho notato che appena entrato all'ingresso c'era superficie bianca di Castellani poi nella camera sua, camera da letto, c'era un'altra superficie bianca quindi mi ha fatto notare che per lui, per questo professore era importante la presenza di queste due opere perché mi piaceva questo professore, questo professore si chiama Cunio, che a me era tutto quello che diceva, tutto quello che piaceva, era tutto punto di riferimento io seguivo quello che parlava, quello che raccontava, allora per me avevo capito comunque questa opera di Castellani, superficie bianca, era una cosa importante e devo imparare da qui, quindi era tutto lì, incontro il concetto è sempre geometria, quello che si parlava antico greco, quello poliedri di pratone, io utilizzo sempre quello quello che viene automaticamente da geometria, cioè io voglio scoprire enigma di geometria Per me geometria è una cosa molto semplice, tipo non so, forse quando è nata geometria era proprio, cioè aveva rapporto stretto con agricoltura cioè dividere i terreni così, adesso geometria, quando parla di geometria c'è i numeri, cioè questo è una cosa fondamentale in geometria c'è sempre i numeri, però per me il numero c'è una figura, cioè ad esempio per parlare armonia forse è una lingua per me, una geometria o numeri, quindi io sto cercando che cosa sia geometria oppure che cosa sia il numero, è questo il concetto, quindi geometria per me è una cosa più globale Bellissimo, bellissimo documentario, sono rimasto affascinato, molto attento a guardarlo L'avevi visto? È la prima volta È la prima volta E' molto attento nel guardarlo Sì perché non l'avevo mai visto realizzato Molto, molto bello Ci dobbiamo fermare un attimo perché c'è un momento di pubblicità Ma ritorniamo immediatamente dopo per raccontare altre storie Prego, pubblicità Bene, allora abbiamo visto nella prima parte questo filmato interessante, molto, molto, molto bello Di questo museo affascinante tra l'altro, noi abbiamo un museo meraviglioso E la gente non si rende conto, non solo del museo meraviglioso, di questo spazio espositivo Ma non si rende conto degli artisti che ci stanno dentro E questo la dice lunga Sbaglio? Eh no, dice la verità Politori perché Ovunque si vada Dal MoMA di New York Alla Tate Gallery di Londra Dal Pompidou Alla Reina Sofia di Madrid Lei troverà il 90% di questi artisti Nel senso che sono quelli più celebrati nel mondo E che qui sono venuti Sono venuti, hanno lasciato una traccia Hanno lasciato un'opera Quindi io quello che lei dice lo condivido in pieno Quello che noi stiamo facendo Politori è Fornire al territorio degli strumenti Perché prenda atto, diciamo, di questa grande realtà Che è l'arte contemporanea E tutto ciò è dovuto sempre Però a che cosa? A due cose secondo me All'amore e alla grande passione Di personaggi come Il papà e la mamma di Brunella Insomma di questi La loro benemerenza non ha limiti Anche perché, ripeto, hanno fatto tutto questo Con grande passione Anche con grande disinteresse Tant'è che, come sapete L'accesso al museo è gratuito Sì, sì, sì Questa è un'altra delle cose che lo distingue Non ci sono, diciamo, biglietti da pagare E quindi ecco È una modalità Insomma proprio Per rendere accessibile l'arte contemporanea A tutto il pubblico Che volesse prenderne a alta visione Nel lavoro Nel suo lavoro Di, diciamo, diciamo Di curatore e di critico Dei grandi eventi Perché abbiamo detto Che Bruno Corà Oltre a scrivere Per testi Insomma Critica d'arte E quant'altro Però cura Gestisce Tra virgolette Grandi operazioni Di grossi eventi Di grandi artisti Poi ho saputo Cioè Non mi va di elencarli Però Però ricordiamo Quante altre Quanti ancora mostre Sì Le direttore In molti centri No? Sì, no Io sono Adesso In questo momento Ho una responsabilità Nella presidenza Ecco Della fondazione Burri Alberto Burri A Città di Castello Voglio dire E ho, diciamo Concluso Da qualche tempo La responsabilità Del coordinamento Del polo culturale Della città di Lugano In Svizzera Dove dirigevo Il museo d'arte moderna E quindi Abbiamo parlato Questi sono alcuni aspetti Ma ce ne sono diversi È molto timido Nel raccontare La tua storia Però diciamo Che ecco Cura questi grandi eventi Allora Qual è l'aspetto Che vuol fare emergere Qual è il significato In queste operazioni Che lei Ma in queste operazioni Diciamo Ciò che viene In evidenza O quello che vorrebbe Essere messo in evidenza È il tentativo Di dimostrare Che la lingua visiva La lingua pittorica La lingua plastica Diciamo Di un'epoca È il suo DNA Così come lo è il cinema La fotografia Diciamo L'architettura Tante altre discipline E cioè L'arte rappresenta Lo zeitgeist Cioè Lo spirito del tempo Del tempo E in quel tempo In questo tempo In altri tempi Lo spirito È stato Qualcosa di molto distinto Molto preciso Per esempio Se noi Facciamo riferimento All'umanesimo Al 400 Al 500 In quel momento Lo spirito Del tempo Era rappresentato Dal rinascimento Cioè La rinascenza Delle arti Classiche Così come c'era stata Nell'antica Grecia Oggi La contemporaneità Ci spinge A confrontare Il linguaggio dell'arte Con le discipline Che Speculano Diciamo Sul futuro Su quello che c'è Di più avanzato E quindi Per esempio La scienza Che tenta di vedere Oltre l'oscurità Oltre i buchi neri Oltre la materia Nera E così via E l'arte È un'antenna Gli artisti Noi sappiamo Che sono dotati Di una particolare sensibilità Per cui percepiscono Così Gli abbiamo sempre attribuito Una facoltà Di leggere Ciò che è scritto Nel futuro E lo anticipano Attraverso le loro opere Ecco perché è importante L'arte contemporanea I soggetti Dell'arte Che ama di più E per i quali Vale la pena Prendere spunto Appunto Come avevo detto prima Per i grossi Eventi espositivi Sì I soggetti I soggetti Diciamo Intendo dire Gli argomenti Sì Certamente Ecco Sono i grandi argomenti Di questa epoca E cioè I problemi Della sopravvivenza I problemi Della vita Della morte I problemi Anche dell'individuo Della sua solitudine Contemporanea E I problemi Diciamo Del sapere Come diceva Gauguin Chi siamo Dove andiamo E da dove veniamo Questi sono Sempre gli stessi Però diciamo Che oggi Con la telematica Con tutti i nuovi mezzi Che abbiamo E anche Naturalmente Dopo aver avuto La grande lezione Freudiana Diciamo Della scoperta Dell'inconscio Noi sappiamo Che bisogna Ardire E guardare Molto più in là E questo è il lavoro Che stanno facendo Gli artisti di oggi Allora Passiamo adesso A Brunella Longo Allora Il rapporto Che ha il museo Con il territorio È difficile Ci stiamo inserendo Ci sono difficoltà Io sono ottimista Nel senso che Ci vuole un bel po' di tempo Con la testa Dice Così Non è più felice Ancora Ma perché io Come ho detto prima Non hanno capito Che cosa Nemo profeta in pazzo No E non solo Della Ferrari Che sta così Nel box Non riescono a capire Allora Io faccio Chiedo scusa Se Parti Da conduttore Partisimo alla Io ho avuto Tantissimi assessori Nell'arco di questi Trenta Quarante anni Che ogni volta Dicono Parliamo Quando si parla di Cassino Ne ho avuti tanti Bianchi Rossi Neri Gialli Tutti i colori Il turismo Il turismo Il turismo Il turismo Il turismo Il turismo Si parla sempre Di chiacchiere vacanti Si parla sempre Della stessa cosa E non si arriva mai A niente Perché poi In effetti Poche idee Fanno la cosa Vincente Ognuno dice la sua Ma la verità È che nessuno Capisce niente Perché sono tutti Prestati Il problema È proprio questo Molto spesso Ci vorrebbe Una specificità Che molto spesso Sappiamo Viene l'usa Invece da incarichi Che non hanno competenza Ma a parte questo Siamo fiduciosi In questo senso Noi Camminiamo Brunella Per offrire Un territorio Un terreno E degli strumenti E poi Chi vuole coglierli Chi vuole cogliere Certi continui Il museo sta qui Ma io dicevo Sono ottimista Perché effettivamente C'è tante Se ne vengono a contatto Ma non tutti Però ci saranno Sicuramente delle persone Che Volevo dire una cosa Interlochiamo così Mi piace Volevo dire una cosa A questo proposito Mi ricordo che Nel corso Di alcune responsabilità Diciamo Come la direzione Del museo Pecci A Prato Dove io sono stato Sette anni La direzione Mi ricordo che Avemmo Diciamo Delle stranissime esperienze Come qualcuno ci disse Ma io Dottore Per venire al museo Non ho il vestito buono Qui non serve nessun vestito Per venire al museo Si può venire in jeans In camicia Il problema è Non avere Paura Di entrare in contatto Con qualcosa Che non si conosce L'arte è qualcosa Che è per tutti Certo non è gratuita Nel senso Un piccolo sforzo Va fatto Ci vuole il desiderio Ci vuole l'amore Di conoscenza Però Veramente è per tutti Quindi Una volta che si ha il rapporto Poi da lì Può nascere la curiosità E anche La conoscenza Come quello che parte Per andare Non so Non è Parte Vai in Egitto Va fuori Per andare a vedere un museo E poi c'è Invece C'è lì in casa Ci sono questi artisti Che come diceva Stanno nei più grandi Musei del mondo Sono venuti a Cassino E stanno qua E la gente dice Madonna Devi essere Devi essere Un addetto ai lavori Ma più che addetto ai lavori Non è vero Non è vero Io penso che invece Un buon assessore Alla cultura Un buon Che ne so Amministratore Amministratore Un buon ente Ma la scuola pure Parlo anche della scuola Molto della scuola Perché se ogni scuola Porta Un gruppo di studenti A questo museo Se ne fanno tanti Di viaggi Tra l'altro Non è che devono andare fuori Fuori paese Diventa un fatto Conoscitivo Come si dice Aiutati Ma è un grande stimolo Non solo un fatto Ma proprio uno stimolo Che è uno stimolo Per la Per la Per la In teoria su ogni opera Si potrebbe fare una lezione Forse c'è la teoria Del vestitello buono Da andare solamente Non si riesce a capire E poi si riempiono la bocca Di grandi cose Capito No in questo senso Devo dire Io sono molto arrabbiato Io amo molto questa città Perché c'è questa terra Io amo la terra Un po' meno chi Amo molto questa terra Che mi ha dato i Natali Però mi fa arrabbiare molto Questa storia Mi fa molto arrabbiare E per questo che ci appassioniamo di più Perché ci fa arrabbiare Ma noi abbiamo un teatro romano Che si interpone Tra Ostia Antica e Benevento Con un'acustica stupenda Negli archi di 40 anni Da dopo la guerra Non ha avuto un boom C'è qualcosa C'è qualcosa che non va Cioè tu non puoi mettere Su un teatro romano E lo dico a chiare lette Non puoi mettere Dal balletto Della scuola Di danza Ai grandi Non può essere così Cioè Non mi va manco Se non comincio Non esiste questa cosa Taormina e Taormina Dove ci sono i grandi eventi Cioè Sono posti sacri Dove devono avvenire solamente grandi eventi Se mischiamo Non si capisce niente Ed è una tristezza Incredibile Incredibile Cassino ha molte chance Moltissime 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 E che ritorniamo un po' Alla cosa del Del turismo effimero Certo Certo Vieni a Montecassino Poi se ne va Non esistono le strutture Adeguate Culturali Toccata in fuga Ma queste sono anni Cioè io ci sono nato qua Da anni Ne parliamo da 30-40 anni Bisognerebbe sfatare questa cosa Ma quelle delle Administrazioni precedenti Le abbiamo parlato Le abbiamo discusso Di tante cose Proprio È come il treno Quando andavo a liceo Il treno Non è cambiato niente Sa parte E non si sa quando si arriva La litoria Allora viene il deputato Rosso E dice Sotto le politiche Ci sto pensando Viene il deputato Nero Adesso risolvo E la gente Ah 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 Poi Forse vince Stanno incazzate La gente è incazzata Non si capisce Per niente È incazzata So boujard Boujard Quello del paesano So boujard Capito Chiedo scusa A questa mia No È uno sfogo Non c'ho niente Da fare Non c'ho niente È veramente questo No mi fai arrabbiare Questa cosa Perché si chiacchiera Inutilmente Però posso dire una cosa Fuori registrazione Forse Cassino Non è invitante Anche per il fatto Che purtroppo È brutta Perché è stata costruita male Ma può essere anche costruita Ti posso anche dire questo Sì però Che brutta Ripartiamo da quello che è bello Da quello che è nuovo Da quello che stiamo facendo Però può inviare A questa bruttezza Capito Cioè È brutta Però esiste Un teatro Un anfiteatro Ci si può coniugare Con quella bellezza Cioè ci sono delle cose Molto belle Che poi C'è un museo Cioè Le termine Bisogna solamente Secondo me Valorizzarle Ma seriamente Valorizzarle Queste cose Assolutamente D'accordo Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Ecco per esempio Io leggevo Perché la scelta Quella era un'area industriale Quella di tuo padre No Quella è stata proprio C'è stata una scelta Di qualificazione Assolutamente È stata una bella scelta felice Perché Questi capannoni Una volta A partire dagli anni 70 Ospitavano naturalmente I materiali edili I materiali di costruzione E poi fino a Diversi anni fa Erano quello Poi Il magazzino Di materiali Ma state facendo anche altre cose Perché ho fatto un sopralluogo Ho visto Sì sì Piano piano Arriviamoci piano piano Ah vabbè Non lo diciamo Non diciamo nulla No è stato trasferito E quindi questi capannoni Sono stati Totalmente ristrutturati E quindi Sono diventati Gli ambienti Che ospitano naturalmente Le opere Molte strutture industriali Anche a Milano La Bovisa Oppure gli stessi Seccatoi del tabacco Tropicale A Città di Castello Che ospitano La Fondazione Burri Sono ex Forse anche Biela La Fondazione Pistoletti Sì Biela La Fondazione Pistoletti Sono ex Lanifici Oppure Sono architetture industriali Sono stati riattati In maniera Un po' positiva Sì perché l'arte contemporanea Si presta molto Certo certo Poi ci sono altri spazi Che ci auguriamo A breve Di poter Utilizzare Utilizzare Per far diventare Per farli diventare Anche a laboratori Per magari Chissà Chi lo sa Laboratori di arteterapia Di formazione Di formazione Anche per ospitare Magari Giovani artisti Quindi possono diventare Bello molto L'appetito via mangiando Come si dice Ma non si cresce Del 2014 Che cosa Chiedo sia a Brunella Che al direttore Che cosa si prevede Allora lo dico io Perché questo Allora abbiamo Noi abbiamo in programma Proprio a partire Dall'8 e 9 maggio Dal 9 maggio L'inaugurazione ufficiale C'è un vernissaggio Il giorno prima Per gli addetti ai lavori Ci sono tre mostre Importanti E cioè La seconda parte Della collezione Permanente Metteremo fuori Oltre 50 opere nuove Diciamo che non si sono viste Una mostra Una mostra Di opere inedite Nuove Di grandi dimensioni Di Idetoshi Nagasawa Che è un grande Maestro contemporaneo Giapponese Che vive in Italia Dal 67 E Dulces in fundo 12 opere fotografiche Di grande formato Di Brunella Longo E quindi questo A breve termine Esatto Allora siamo quasi in chiusura Un'ultima domanda Che faccio a Bruno Coran Sì Quando organizzi Questi grossi eventi No? Diciamo così Eventi artistici Sì Qual è l'energia? Quanta energia E quanto tempo Ci metti Per arrivare Diciamo Alla realizzazione Di un evento Di grosse portate Diciamo che Le grosse Poi è la fatica Insomma L'impegno è notevole Sì Le grosse iniziative Quando le mosse Sono a carattere tematico Faccio l'esempio Non so Una mostra come Costanti Che era Una mostra Che faceva una ricognizione Sul ventesimo secolo A partire da quelli Che erano Gli artisti contemporanei Ritenuti da noi Dal nostro punto di vista Nuovi classici Beh Lì c'è voluto Un anno e mezzo Due anni Per preparare Questa mostra Perché si tratta Di individuare le opere Chiederle ai musei internazionali Schede di prestito E quando si parla di tempo Mi insegni Che ci vuole sempre L'amore e la passione Amore, passione, studio Se no non ce la fai Va bene Siamo quasi in chiusura Velocemente Vorrei una battuta Da parte di tutti e due Brunella Obiettivi futuri Del Camusac Che cosa da qui La crescita della collezione Prima di tutto E poi Anche l'espandersi Di tutte queste attività Di cui avevo parlato prima E quindi che avevo introdotto Quindi io Di conseguenza Oltre ai cosiddetti Laboratori didattici Le visite E più workshop Che comunque toccano Vari argomenti Eccetera Anche Mi auguro che si possa poi Aprire un discorso Di arti terapie E Di scambi Anche con altri musei Quindi va bene Insomma Interagire con altre situazioni Museali italiane Non solo italiane Ma magari anche internazionali Ultima battuta Per Corà Ma io Mi augurerei questo Prima di tutto Una maggiore E intensa collaborazione Con gli istituti Diciamo Istituzioni Di studio Che sono presenti Sul territorio Università Accademia di belle arti Licei artistici E questo come primo passo Secondo passo Un rapporto più stretto Con la città Vole a dire Con il contesto urbano Dove noi Da molto tempo Auspicheremmo Di imporre dei segnali Di arte contemporanea Nella riqualificazione E questo è il messaggio Che diamo a tutti quanti Io ringrazio i miei ospiti Che questa sera sono stati Bruno Corà Ricordo critico d'arte Direttore del Camus E Brunella Longo Membro della fondazione Camus Ringrazio la regia Danilo Costanzi Tecnici La puntata finisce qua Noi cuidiamo con Luis Bolli In Brano Jazz Pro Alex Ringrazio tutti i nostri Tere spettatori Grazie a voi Buonanotte a voi E buonanotte ai nostri Tere spettatori Grazie Grazie alla regia Grazie a te 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.